Non per ricordare il terremoto dell'80, ma per sensibilizzare i cittadini, anche e soprattutto i più giovani, ad impegnarsi affinché quei tragici eventi di 42 anni fa non si ripetano. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è a questo che punta nella tre giorni che si sta svolgendo da questa mattina presso la sede Irpina Grotta Minarda. Ad accogliere le scolaresche ha anche la direttrice Anna Maria Vicari. Un'operazione di sensibilizzazione che noi cerchiamo di fare sul territorio su una serie di tematiche, partendo chiaramente da quelle che sono più vicine a noi del rischio sismico, ma poi affrontando anche delle tematiche più ampie che magari riguardano il rischio idrogeologico, anche il rischio vulcanico. Quindi un'operazione proprio di sensibilizzazione verso quelli che noi chiamiamo i cittadini del futuro. Un evento che coinvolgerà in prima persona le scuole, quindi avremo adesso il 23, il 24 e il 25 diverse scolaresche che ci verranno a fare visita e che percorreranno con noi questi percorsi divulgativi. Poi però il 25 ci sarà un focus specifico per il rischio sismico a cui nel pomeriggio dovrebbero partecipare tutti gli enti, i volontari, le associazioni di protezione civile e le amministrazioni comunali. È partito da qualche mese una discussione su una ipotetica convenzione che potrebbe riguardare tutti i comuni della Valle dell'Ufida. Per cui in qualche modo noi come capofila assieme all'ICAG, all'Istituto del CNR di Milano, potremmo in qualche modo dare una mano a rendere operativi ed esecutivi tutti i piani di protezione civile. Questo penso che sia un grosso aiuto da dare al territorio ma chiaramente poi il territorio deve darci una risposta concreta. Quindi speriamo che per il 2023 si riesca a concretizzare questa iniziativa secondo me molto importante. Non solo terremoti, protagonisti della giornata anche tsunami, vulcani e rischi idrogeologici connessi in particolare agli eventi atmosferici che hanno colpito l'Irpinia negli ultimi giorni. Intanto è dovuto fondamentalmente a piani di gestione di manutenzione del territorio. Noi abbiamo una pioggia che porta le alluvioni perché magari il tombino non è stato ripulito o i fiumi non sono stati manutenuti in maniera adeguata. Quindi in primis da parte nostra dovremmo intanto mettere in pratica tutto quello che fa parte delle opere di manutenzione del nostro territorio. E questo credo che sia importantissimo. Poi certamente le condizioni climatiche stanno cambiando. Dobbiamo stare attenti perché gli eventi estremi stanno caratterizzando il nostro clima. Questi purtroppo hanno difficoltà anche a essere previsti in maniera corretta. Per cui ripeto, secondo me l'opera di manutenzione è quella che in qualche modo è prevenzione che va messa in pratica in maniera corretta.